ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi si sono un pochettino spawnato con gli orari infatti dopo il video che tutti penso ormai avete visto quello la dell'impostore e mi fingo max.s a parte questo oggi farò la reaction a il mio carissimo cugino fortes questa reaction sfido il mio cattivo d'arcangelo e lo distruggo con una sfera me l'ha chiesto tantissimo ieri in videochiamata di fargli la reaction nel suo nuovo canale fortesita e ragazzi ovviamente se lui mi farà delle reaction a me io ripagherò i favori e gli farò delle reaction a lui infatti oggi ho visto che mi ha fatto la reaction quella la in cui è apparso l'impostore e quindi ripago il favore con lui che distrugge il d'arcangelo grazie fortes ti voglio un sacco di bene che mi fai le reaction così a meno del mio canale si saprà anche nel tuo canale via inizia subito questo video a me non mi piace perché in pratica è un pochettino storto a me non mi piace mettere il telefono così a me mi piace metterlo così ragazzi perché poi io ho la tv con la team vision no che io ogni volta i video me li guardo in questo modo così no mentre se lo metto così pure in tv si vede male quindi ragazzi per questo preferissi che forte se fai i video come me così perché sennò poi io io su youtube video e nel telefono non ne guardo mai li guardo solo per mettere i like ai miei video o i video di fortes ma poi io sto tutto il pomeriggio a guardare i video di fortes i miei video di altri youtuber sul televisore quindi a me se forte se farei video come me mi farò un grandissimo favore e poi se vuole continuare a fare i video così poi li può fare non dalle fini canale su quello che vuole fare fa inizia questa reaction ciao a tutti ragazzi ciao fortes ti vediamo ragazzi devo andare fuori perché devo sfidare per cancella ragazzi non è facile per niente ve lo dire eh già quel tizio è molto potente di quanto pensavo l'ultimo momento che l'ho sfidato ragazzi è stato difficilissimo veramente quindi però ragazzi questa volta ci devo non uscire ragazzi però lo devo farlo rambiare questo è il motivo perché ragazzi se non lo faccio rambiare io ragazzi voglio dire se non lo faccio rambiare io non so come metterlo qua già dovevo rambiare incominciando io si arrabbia come ha detto max fuori che mi ero ragazzi mi ha detto che ho avuto un nuovo potere mamma mia proprio qui dovevo rambiare ragazzi qua ragazzi devo avere il potere massimo una forma completa non ce l'ho non so come rambiare l'ho già io non so discutere mamma mia non mi riesco perché se ci vuole una forma molto bella già ragazzi incominciando ragazzi ragazzi mamma mia è già troppo sfidare cattivi non è la cosa più bella che si può fare però se vuoi distruggerle vabbè io ci provo se vuoi non mi riesce a finire il canale ha detto paura vabbè ci provo non mi riesci nemmeno a bandermi nemmeno con un colpo io ti stendo con un colpo ho così hai capito da cande non non riesci a fare niente non hai niente sei un uo poi cattividade non spede nemmeno vecchi lo sto prendendo in giro così lo fa apparire bello vai prendendo in giro forse si è aggiustato un po' chi è stupido non sarei mai più indietro a quello che ho stupido io sono il migliore sono il più potente io sono del cancro ma pensavo che era forse questo è d'arcangelo cosa è successo ho gli occhi arancioni praticamente fuoco l'ambulanza e come deve essere possibile che ogni volta c'è un'ambulanza non lo posso vedere addio hai fatto scomparire a quello stupido di dacaccio è pure jacobus c'è dai oh qua proprio si è invisibile guarda che ho utilizzato si da questa parte tutto è invisibile questo si è forte è stato d'arcangelo occhi laser ora si che ti spago questo è f***o con gli occhi rossi dove ti trovi? sfera energeti sfera energeti ma dove è la sfera? ho un attacco invisibile solo io ho questo pedello vuoi no la sfera? con questi occhi rossi ma chi è d'arcangelo? c'è gli occhi rossi ok ma è un po' secondario no non ci riuscirò mai no questo è impossibile questo è se non mi sbaglio Fortes mentre quello con gli occhi rossi è quello stupido di d'arcangelo giusto? oddio per sempre ragazzi ora ho esaurito si è riuscito ha creato una sfera grandissimo non so come ho fatto a fare con la sfera vi chiedo è strano mi sono dalle mani infuocate ancora è stranissimo non lo facete mai a casa no io neanche ci riesco non so se lo posso fare solo io ma quella sfera è strana non lo facendo le mani mi stanno scogliando non è bello vi dico ho pensato un sacco di cose che mi fanno svegliere la rampia ma sì mi è venuto con la sfera a caso sì perché era era bella però con la sfera era bella per terra volevo vederlo aspettate che non ci vedete è per terra è stanchissimo dopo aver fatto una sfera così così grande già portiamo un po' avanti ci vedremo molto presto a sconfinzerti per la terza volta ancora sei vivo non ci credo lo rifaccio eh no scherzano non qui ne ci rispostiamo spero ora adesso a nulla ragazzi questo video richiestissimo da Fortress per fargli la reaction finisce qui ragazzi noi ci vediamo subito dopo questo video con il prossimo video che sarà sulla reaction della videochiamata mettete tantissimi like sotto questo video soprattutto iscrivetevi mettete un bellissimo commento e soprattutto condividete così più persone vedono i miei video e finalmente avrò tantissimi iscritti ciao ciao ciao